Ciao a tutti Dreamers, Paperotti, Gamer Boys, Gamer Girl e Gioseffini! Ciao! Siamo tornati oggi qui su Piggy, perché quanto pare c'è l'evento natalizio e quindi io sono prontissima ad essere Piggy Natale. Io devo far vedere una cosa nella webcam, guardate. I piedi. Ah, è una cosa, già so cosa sto mostrando, ragazzi lo voglio anche io. Sì, però, esatto, questa cosa qua, però non deve saperla Giulio. Eh, Giulio non guardare il video. Giulio non guardare il video perché è il tuo regalo di Natale. Ma che vuol dire? Ma no! Non devi guardarlo. È ovvio che adesso lo vado a vedere. No, dai Giulio è il tuo regalo di Natale, non spoilerartelo. Ah, raga, ma vuoi sulla mia testa lo vedete un microfono? No, io vedo la chiave inglese. Chiave inglese. Io sulla tua testa vedo un cappuccio. Io sono tipo... Ma Francia, hai già in mano la... Io ti vedo già che hai già in mano la chiave inglese. No. Ma io no. Ma dove siete? Ma perché voi stavate già giocando? Io ero ancora fermo a... Ci siamo adesso, stiamo andando... No, chiedevo perché a quanto pare... C'è la chat di possibilità. Io non avete attivato ancora la chat vocale sul Roblox. No. No, io non so neanche come si fa. Però Francia, io ripeto, io vedo che in testa a te c'hai il fumetto con la chiave inglese. Quindi magari è quello il microfono. No. No, è solo un microfono. Perché vedo che è la chiave inglese. La chiave inglese avrà la chiave inglese perché la credo. Francia, è dietro di noi! Lo sapevo che la portavi qua. Lo ha portato la sciagura nelle nostre vite, lei. Lo sapevo che la portava da noi. Ci ha accoppato, scusate. Ma no, ma no... Eccola, eccola. Mi ha fregato. No, Giulio, ma vai da un'altra parte. Perché vuoi cappare fra me? La sapevo a me. Come la Sabri, il cosplay. No, allora, vi dico dov'è. Sì, grazie. Non era dietro tutti, tipo... Dici dov'è, sì. Ma Joseph è morto. Ma io sono caduto dall'inqualcatura. Ho preso una specie di foglietto da vicino al muro. Francia, posso dire una cosa? Io ho una chiave viola. Dove l'hai insinito? Eh, la chiave viola va giù. Io un'idea ce l'avrei. Quindi adesso... Ora come ora non ti serve niente? La chiave... C'è Piggy, c'è Piggy. Ah, no! Cosa stai facendo? Come hai fatto? No, spiegami come hai fatto. Che cosa? Spiegami come hai fatto. Traditrice della patria. Potrei... Non ci sono portate in faccia. Sì? Io mi sono preso circa 5 secondi per capire come ho fatto a morire. Adesso ve lo spiego. Sei caduto alle scale? Sì. Eh, si muori. Ma io mi ero lanciato apposta. Sì, ma... Eh no, muori. Ok, ok, ok. Se le sta andando. Pingy si è riandata. Bungie Jumping Joseph. Ma senza la corda però. Ma Piggy è morto una persona. Oh, 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 aspettate, 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 aspettate. Ma quindi siete morti tutti? No, Giulio no. Giulio è vivo. Ok. Io adesso la patoletta, Franci. Ok, io ho trovato la chiave rossa, però devo riuscire a prenderla prima che Piggy mi prenda. Io e Joseph siamo un po' sfortunati. Chiave rossa? No, sono la merda. È solo scema. Franci, è dietro di te. Franci, stai per morire, stai per morire. Franci, Piggy è dietro di te. Lo so, lo so, lo so, lo so. Via, vai via. Sì, ma scusa, ma adesso noi non giochiamo più per tutto l'episodio, Franci. No, no, aspetta, Franci aiutarla. Voi avete finito. Franci è davanti a te. Aspetta, aspetta. Piggy, ti prego. Piggy, lasciami fare. Giulio, vattene. Vattene, vattene, vattene. Lo distrago, scappo. No, Giulio. Franci, vai con calma, sta seguendo Giulio. Pensavo che la chiesa gialla è giù. Via, Giulio, via. Come sta seguendo Giulio? Giulio, via. Bellissimo questo maioncino di Natale. Ti piace? Sì, sì, bello. Però scappa, Giulio, scappa. Come siete? Non lo so, mi sta inseguendo. Giulio, te lo dico io, dov'è? No, ha cambiato target. Sta salendo ora. Però, raga, non sta più seguendo nessuno di voi due. State attenti. Eh, Franci. No, amo. Eh, no, ma gli avevo mandato un po' se non poteva. Non poteva fare niente, non se lo aspettava, la stavo guardando io. In realtà, Sabri è alleata con Piggy. Giulio, allora questa va giù, questa va giù a tutto. Esci fuori, devi uscire fuori. Vai in cucina. Bravo, bravo. Perché si può uscire qui dentro. Vai. Esci, bravo. Entra. Qua c'hai tutto. Prenditi. Giulio, lo senti questo peso? È la responsabilità per questo episodio. Cosa? Devi prendere prima un'altra cosa. Non ci arrivi. Giulio, sei morto. No. Per me muori. Giulio, vai. Anche per me. Devi entrare a prendere un'altra cosa, Giulio, eh. Non quello. Eh, sì. Ciao. Vai, veloce, esci. Run. 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 E tanto sei morto ora. Allora, adesso devi aprire la porta grande e poi sali sopra. Sei fermato. Prendi questo, ok. Vai, Giulio, vai. Vai. Lì. È lì. Non capisco. Aspetta, Francia, sono in un sacco di panico. Devi salire. Entra in questa porta, aprila, segui il filo adesso. Eh no, ora muore. Si può buttare giù, si può buttare giù. No, dove vai? Si potevi buttare giù dall'altro lato. Eh, ma no, ma muore. Sì, come ho fatto io. No, non muore, perché ha appena disattivato le cose, l'ha disattivate con questa. Ah, ok. Vabbè, vatti a prendere il martello. Vai adesso, vai. Ma vedo che ansia, raga, che ansia. Esatto. Povero Giulio. Veloce, Giulio, veloce. Allora, adesso. Occhio, non c'è. Ah, no, 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 no. Occhio, è lì, è lì Giulio, via via. Gira intorno alla casa. Veloce ora. Mettilo sprint. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Scorreggia, che vai giù veloce. Chiedi la porta, chiedi la porta mentre corri. Vai, Giulio. Rompi qua, rompi, rompi, rompi. Salta. Salta. Vai giù. Scappa, scappa, scappa. Vai giù. No, aspetta, aspetta. Franci, stai andando con il panico. Sei pure lì da solo in questa casa ormai. No. Cos'hai fatto, Giulio? No, c'è l'ho fatto la porta. È dietro in cucina. Continua ad andare avanti. Vai giù, vai giù. Giù, giù. Apri questo. Aspetta, aspetta. Torni indietro, torni indietro. Non può adesso tornare indietro. Giulio, vai. Ma che ne so, raga. No, non ce l'ho questo. Non ti serve, la pistola. Torna indietro, togli il martello e torna indietro. Qui non c'è, se viene ti avverto, Giulio, vai tranquillo. Il codice va sopra, porta d'ingresso. Giulio sta scendendo, sta scendendo, via. Non siete dei rumori. Via Giulio, scappa. Sì. Posso vivere dentro il buco per sempre. No, non credo. Vai, vai, Giulio. E che questo tu gli sta aggettare, sa che cosa di fare. Via, Giulio. Via, 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 Giulio, via. No, non la voglio scelta. Metti la scoreggia, Giulio. Chiudi la porta mentre passi. No. Non è funzionato. Vai, salta. Giulio, via, 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 Giulio, devi andare via. Ma qua a terra c'è la cosa rossa qua a terra. Lidia, prendila. Oh, mi canzi. Qual è la cosa rossa? Non la vedo. Ma non c'è nessuna cosa rossa. Sì, c'è una rotellina. È quella verde allora. E la rotellina, c'è la rotellina rossa, è dietro alla tavola. Anch'io non la vedo. E a terra. Vai, Giulio. E dietro alla tavola, è qui. E qui dietro alla pizza. Va, 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 prendila. Vai, Giulio. Ora, Giulio, devi andare sopra. Presto, presto, presto. Due minuti, Giulio, due minuti. No. Tu ce la fa. Adesso sta andando a prendere le cose per sbloccare la chiave argentata. Sali sopra. Vediamo, vediamo. Devi salire sopra. Giulio, ma se vinci, se vinci, Giulio. Giulio, sei da solo contro Piggy, la stai dominando completamente sta partita. Vai. Sali. Devi andare. Dove? Vai a sinistra. Sinistra. Hai anche una Piggy bravissima. Sinistra. Si sta seguendo, eh. Vai, entra qui. Chiudi la porta. C'è Piggy dietro. E' contusa però, va avanti e dietro. Questa va giù a tutto. Devi riscendere giù a tutto. Dove prima hai rotto con il martello. Bravo. Bravissimo. Grande. Ora, rotella verde ti serve. E' questa qua, Giulio, è questa qua. Giulio, Giulio, è qui, è qui, è qui. E la rotella verde è quella di fianco ai proiettili gialli. So che non lo puoi vedere. Non l'hai preso, Giulio, eh. Lo so. Giulio non parlava da molti minuti. Devi tentare il tutto per tutto. Corri in sprint, scorreggia. Giulio, giusto per non metterti ansia, hai solo un minuto, vai. Lo so, ma non vale. In 50 secondi. È lì che ti aspetta, Piggy. Adesso sono 45, Giulio. Corri più veloce che tuoi. E scendono in fretta, Giulio. Ce la puoi fare, Giulio? No! Non voglio perdere! Io non ce la fai, invece. Credo in te, vai, Giulio, ce la puoi fare. Io non credo in te. Ce la puoi fare? No! Giulio, 30 secondi! Dai, raga, ma come... Dai, Giulio, no! Piggy, Piggy, riesce a sapere dove sono io? Sì, no? Secondo me ha attivato tipo quel cosino con il topino. C'è tipo il lock su di te ormai. 15, 14. Dai, che ce la fai, Giulio! 10 secondi! Vai! No, è andata. Ce la puoi fare? Sali soprattutto adesso. Ma no, vai! Nella capanella! Nella capanella! Addio! No! Sì, Franci, faceva una bugiarda. Ce la puoi fare con Giulio che gli mancano 5 secondi. Ma come faceva a fattola? Ce la poteva fare. Ah, bene, ma era molto! No, un bot! Ecco perché ti seguiva, perché era un bot! Raga, io ho esaurito tutte le mie energie psicotiche. Sei stato bravo, ammetto che sei stato molto bravo. Ok, vai, adesso inizia il video vero. Questa era di preparazione. Sei stato molto bravo, però. Cosa facciamo? Bot, giocatore, sciame, traditore. Come volete voi. Quello che volete voi. Vai, vediamo. Cos'è traditore, raga? No, traditore no! No, traditore cos'è? Oh, ma è brutto. No, è senza soluzione. Bot, giocatore. No, ma chi ha cambiato? Io no. Giulio, sei stato tu, dillo. No, io ero l'unico in traditore. Quattro settimane dopo. Ero io il traditore. Ma no! Ma no, anch'io ero traditore. Qualcuno ci ha fregato. Io vedo una chiave gialla. No, un martello. Io ho una chiave di un colore indefinto. Raga, qui c'è la dinamite. Prendi, la prendi. Sei dinamite pura. Allora, in realtà sembra una cosa che non posso dire. Ma Giosef... Ah, ok, era una vite. Non potevo dire. Arriva, arriva, arriva. Pighi, 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 pighi. Che cosa ha passato quella piga? È un martellino. Ah, ma qui c'è, Pighi, nonna. Pighi, c'è anche un lupo. Qua ci sono dei proietti. Oh, io, io, apropi. E qui, 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 vieni, Giulio. Via, 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 dietro di noi. Raga, io ho un martellaccio. Lo tengo. Aiuto, raga, occhio, dall'altra parte c'è coso, eh. No, Francia, arriva, pighi. Ah, no, ok, stai inseguendo fake Joseph. Ragazzi, ma posso dire una cosa? Eh. Ma l'altro tizio, chi è? Doggy. Eh, non c'è andare addosso perché ti uccide. Ti uccide ma ti segnare anche a pighi. È come se pighi poi così ti vedesse. Cioè, quindi è doppio, è la chiave turcese. Ma sono due, allora. Vieni. Questa chiave è già... Ok, qua ci va l'asse di legno. Miola andava da qualche parte ma non riesco a... Ah, la chiave turcese è qua. Io ho rotto con il martello le cose. Raga, ho rotto le assi di legno. Sono morta! Come, Franci? Mi sono spiaccicata al suolo. No, ma poi nonna Piggy sta inseguendo me. Ecco, Joseph che hai messo la roba nel fuoco. Dovete riprendere. Eh, non riprendetelo. Sì, adesso l'ho ripreso. Ora che faccio? Amore, guarda me. Allora, la Sabri, vieni con me, sa. Eh, non vieni con me. L'ho già rotte le assi. Con me dove? Allora, passate insieme. Allora, vi dico io, andate verso Doggy. Eccolo. Girate a sinistra. Eh, vabbè, Francesca non c'è la destra e la sinistra. In fondo, in fondo, in fondo. Girate di nuovo a destra dove c'è Piggy. Oh, mamma mia. È dietro di noi, aiuto. Franci ci vuole far morire, sono sicura. Ok, vai, la Sabri, devi rompere questa parete. Come? Ma una l'ho già rotta. E questa, devi rompere questa parete. Eh, vabbè, sta inseguendo. Eh, c'ho Piggy dietro. Bravissima. Solo che mo' mi ne vado da qua. No, è la chiave, prendila, prendila. Questa è la chiave bianca. Ti dico dove va, vieni. Scappo, posso scappare. Sì. Aiuto. Giuseppe, via, che c'hai la nonna dietro. La vedo, la vedo, la vedo, via. Allora, chiave. Chiave rossa serve? Io ce l'ho rossa. No, non serve. Dovete trovare la chiave inglese. Ce l'ho io la chiave inglese, raga. Sto vincendo tutto. Sono troppo forte, ormai. Ormai Francesca mi ha passato. La skill. Il suo potere, la sua conoscenza. Hai trovato dove è l'altra cosa? Qui ce n'è una dove c'è Doggy. C'è una cosa a cui devi dare corrente. Ok, ce l'hai data. Ti seguo, Giulio. Dovete andare nella cosa... Ah, mo' scendi, piano piano. Non ti buttare giù che muori. Devi andare... Eh, questo stavo per fare. È lo sprint. Esci da questa porta, vai. Yeeey. Oh no, c'è Piggy, c'è Piggy. Dove andiamo, Giulio? Occhio. Ma sono scappato senza di loro. Mi sento... No, hanno fatto, hanno fatto. Non vi preoccupare, mo' passano. Eh, tu mi hai detto scappa, pensavo che loro fossero già andati. Li ho lasciati così da soli. E non riesco a passare. Fredy, che te lo faccio. Sì, ci ho fatto anch'io. Ho fatto fare un'escamotaggio. Cioè, li ha. Tutti tranne Franchi. Salamina Franchi. E io sono andata... Franchi perché sei a cartocciato a terra. Mi sono spiaccitata contro il suolo. Braga, la prossima... Una preghierina per Franchi. Uno di noi farà Piggy. Sì, me lo sento. Come la vedete? Me la sento. Vai. No, so, che sono selezionato come Piggy. Vai, Giulio. Se mi vuoi bene, non mi uccidi. Sabri, guarda, ti giuro, ignoro tutti i tranne che fa. No, dai, Giulio. C'è qui il tuo regalo di Natale. Grande, Giulio. Questo è il tuo regalo di Natale. Sabri, tutti quelli che mi passano a fianco li ignoro. Ma Giulio, ma io ho il tuo regalo di Natale. Bracco, finito il figlio dell'universo. No, non mi braccare, ti prego. Giulio, facciamo che siccome io sono scarsa le prime tre volte che mi vedi, mi ignori. Come il leone con la gazzella, Sabri. No, dai. Non penso funzioni così. Comunque mi sento il dovere di informarvi che io qui non ho la più pallida idea di cosa bisogna fare. Eh, è fantastico. Perché hai scelto l'ospedale, allora? No, perché così ci diventiamo, ce la ridiamo, ce la scostiamo. È proprio qui che Peppa Pig proliferà. Sì, con Giulio che mi uccide, ti prego, non uccidermi subito. Sì, qua c'è una trave, chi la prende? Plim, 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 plim. La prendo io. Aiuto, pensavo sì. Allora, io vi dico, ho iniziato a cercare Sabri. Bravo, dai, io sto insieme a Giuseppe. Giuseppe, vieni qua. No, 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 mi vuole usare da scudo, vado via. Eccolo, eccolo. Via, via, scappiamo tutti. No, 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 dai. Sabri. Prego, finisci subito la partita. Sabri. Dai, Giulio, finisci subito la partita. Ma per te finisci subito la partita, mica per tutto. Perché mi uccide. Ah, Sabri, ma non lo portare da me. Sabri. No, lo porto da me. Ma perché lo porti da me? Allora, Calliste Moon. No, no, Calliste Moon muore perché ha detto Ciao, Franci, ciao, Sabri. E io? Vedi qua, Calliste Moon. C'è di Calliste Moon. No, intanto almeno metà mappa ce la facciamo, Giulio. Chiudeteli la porta in faccia. Così impari a non salutare anche Giulio. Sono incastrata, ragazzi. Giuseppe, questo lo faccio per noi. Dove si sveglia? La prossima volta saluta anche te. Scusate, ragazzi. Perché siamo incastrati? Giuseppe mi dà ansia e non so che cosa fare. Ah, qua c'è una scheda rossa. Chi ha una scheda rossa? Ma ragazzi, avete chiuso la porta, ma c'ero io. Io ce l'ho. Giulio, non picchiarmi, Giulio. Ma no, ma mi sei Joseph. Ma mi sei... Franci, ma mi smettete di passarmi davanti. Ma dove l'avevi presa la scheda rossa? Ce l'ho io, ce l'ho io. Io voglio uccidere Calliste Moon. Ma mi devi dire dove devo mettere la scheda rossa. Ma avevi detto che mi avresti dispermiato. La scheda rossa dove è appena morto Joseph. Ma Joseph, ma mi sei venuto addosso tu. Ma non pensavo che stessi cliccando i giacchi per bastonarmi. Franci, 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 ho la scheda rossa. Vieni. Vedo Giulio. Aspetta, no, c'è Giulio. Giulio, se mi vuoi bene, aspetta un secondo. Giulio, se mi vuoi... No, fermo, vai. Se mi vuoi bene, aspetta un secondo. No, Franci, non posso passare. Mi ha messo la trappola. Passa, Sabri. Esatto, vieni di qua. Vieni di qua, pure io come Franci. Ci sono trappole ovunque. Vieni qua. Guarda questa situazione, amore. Franci, no, Franci. No, ma perché non uccidi Franci? No, Franci, dici qualcosa. Non ci interessa, no. Giulio. Lei chiude la porta e lui la riapre, guarda. No, Giulio, dai. No, dai. No. Ma no, poverina. Franci, dammi una mano. Prova. Franci, porterò. Prova a saltare la trappola, gamer, vai. Ma dai. Ma perché non uccidi Franci? Ti vedo benissimo. No, no. Io sono giù, Franci, io sono giù. Non sei giù, ti ho stessi qua, bravo. Ma poi l'ho vista salire, ahimì. Ok, so dove è la trave. La trave ce l'avevo io, ma sono morto. Oddio. Vabbè, senti, Sabri, il lavoro è giunta. Vai, mi serve. Ok. Vengo a tirarti. Vengo a tirarti una smacculata. Giulio, se mi vuoi bene, stai lì. Tutto uno Giulio. No, dai. Ma che poi, Franci, non conosci bene la mappa, questa. Come fai a vincere? No, io voglio solo capire dove si vince. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Sono arrivato, Banni. Vai. Banni, aiutami. Ce l'hai, ce l'hai. Ce l'hai. Dov'è Banni? Banni ce lo fa sparire per 20 secondi. No, no, Doli. Giulio non si è accorto di niente. Non ha visto nulla. No, è che io campero qua dove c'è Banni. Non ti sei accorto che ti è passato di fianco. No. Ciao, Franci. No. Giulio, se sei il nostro amico, stai fermo. Basta, ma sei finito. Sei il mio amico. Sei il mio amico. Dov'è Banni? Quei dannazione. Bene, ora che abbiamo scoperto che si può saltare sulle trappole è tutto più facile. Sì. Banni mi salterà su, Franci. Allora, Franci, è alla tua destra. È lì, dov'è Giulio? Eccolo, eccolo, eccolo. Non mi prendi. Giulio, se ci vuoi bene, aspetti. Secondo me devi venire qua con una tessera blu. Non lo so, non lo so. Giulio ti sta aiutando, capisci? Perché lì dentro c'è una provetta e una chiave viola. Sì, ma non so come si entra e non c'è una chiave blu. Eh, non so dov'è situata. Sì, ma tu dici chiave, io ti dici tessera. Aspetta, vado a cercarla. Giulio ti aiuta. Spera che la sta cercando Giulio. Ok, vai Giulio, cercala. Perché ho sentito il pom della trappola. No, è Giulio che le mette. Sono io che le piazzo. Ah, non le metti, ok. Ma no, gioco over. Gioco over, ragazzi. No, però noi abbiamo dato la soddisfazione a Giulio. È vero. Ma cosa? Cioè, se non lei capisce. Perché Giulio è carino. È stato gentile. Quindi ragazzi, se vi siete diversiti, anche voi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E vi ricordo di passare sul canale di tutti gli altri dove sono già usciti dei fantastici video. Noi vi salutiamo e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao! Ciao! Ciao!